Buon pomeriggio, buona domenica, ben trovati a questo consueto appuntamento con il repilogo dei principali fatti che vi abbiamo raccontato questa settimana durante i notiziari di Media News. Cominciamo da lunedì 8 ottobre. La Guardia di Finanza all'Assemblea regionale siciliana continua l'inchiesta sulle spese dei gruppi parlamentari. Nell'ambito dell'inchiesta sulla spesa dei fondi pubblici da parte dei gruppi parlamentari, i militari della Guardia di Finanza, su disposizione della Procura di Palermo, nei giorni scorsi hanno iniziato ad indagare sulle spese dei gruppi parlamentari all'Assemblea regionale siciliana. I finanzieri stanno acquisendo ulteriori elementi rispetto alla documentazione già consegnata dal presidente dell'ARS, Francesco Cascio, e dal segretario generale Giovanni Tomasello, al procuratore aggiunto Leonardo Agueci, titolare dell'indagine. L'obiettivo degli investigatori è verificare i movimenti di denaro nei conti correnti dei gruppi e incrociare i dati con bilanci e ricevute di pagamento. Cascio e Tomasello, che stanno collaborando con la Procura fin dall'avvio dell'indagine conoscitiva, hanno sottolineato i magistrati che la presidenza dell'ARS si limita a trasferire fondi pubblici, ma non ha alcun potere di verifica sulla spesa, in quanto i gruppi sono associazioni di diritto privato per cui operano in autonomia. Nel corso dell'ultima legislatura i gruppi hanno ricevuto al Parlamento contributi per circa 60 milioni di euro. Sarà intitolata al Cardinale Salvatore Pappalardo la sala in cui si riunisce la Conferenza Episcopale Siciliana. Lo hanno deciso i Vescovi di Sicilia che con questo atto hanno dato inizio alla sessione autunnale della Cesi. La Conferenza Episcopale Siciliana da oggi si riunirà in una sala intitolata proprio questa mattina al Cardinale Pappalardo. Figura tanto imponente da portare gli invitati a riflettere sulla situazione economica e politica nazionale e regionale. Ne emerge un grido d'allarme sconfortato per la mancanza di moralità all'interno del mondo politico e la Chiesa non ha potuto fare altro che prendere atto di questo difficile momento, esprimendo a tutti le proprie ansie e le proprie paure. Noi abbiamo un'assemblea regionale che è la più numerosa di tutte le regioni d'Italia. Noi abbiamo delle spese che sono al di là, in nome della nostra autonomia, al di là di quelle che sono le spese della politica che si affrontano nelle altre regioni. Io non sono uno specialista, ma ho letto sui giornali che addirittura questi emolumenti che si riconoscono ai partiti in Sicilia non vanno rendicodizzati. Ognuno li amministra come li vuole lui. Non so se è vero, penso che non sia vero, ma posso immaginarvi se i giornali l'hanno scritto così solennemente e nessuno l'ha smentito che possa avere qualcosa di parvenza. Abbiamo creato una serie di enti che sono dei pesi enormi per la società, degli enti inutili, degli enti che non funzionano. Ci troviamo in una situazione gravissima in cui continuano a volte le cose pubbliche a non funzionare. Vedete il dominio della sanità, vedete il dominio anche dell'istruzione. Martedì 9 ottobre si è tenuta un'assemblea cittadina per la casa a Palermo in una camera dell'albergo Archirafi. Per l'assessore Ciullo occorre avviare i controlli sulla graduatoria delle famiglie che attendono l'assegnazione di una casa dal 2003. Qui vivono sei famiglie, vivevano sei famiglie, adesso qualcuno è meno, che per mancanza di strutture di alloggio vivono in questo albergo che ha messo a disposizione alcuni locali per famiglie che non hanno possibilità di pagare un affitto e quindi si trovano in questo hotel proprio per una questione emergenziale. Se a questo poi aggiungiamo che magari la famiglia monoreddito non ha nemmeno quello, ecco che le famiglie si trovano in totale abbandono e quindi si arriva a questi atti purtroppo preoccupanti, quello di togliersi la vita. La disperazione è grande se uno non ha un tetto sulla testa. Io è da circa 11 anni che faccio sempre le stesse proposte. Ora l'amministrazione è cambiata, ritengo che ci debbano essere dei segnali di cambiamento nell'affrontare il tema dell'emergenza a casa e delle politiche abitative. A Palermo si muore di casa. A Palermo si muore di casa, questa è una delle cose che purtroppo ci fa riscoprire il problema di questa tragedia del diritto alla casa in questa città. Questa famiglia da dieci anni lotta per la casa e ci auguriamo che non sia la tragedia a risolvere il problema ma che ci sia l'intenzione da parte dell'amministrazione di pianificare un intervento su tutte quelle che sono le emergenze ma anche su tutte quelle che sono le decine di migliaia di famiglie che sono in questa situazione. E il rischio ritardo nelle operazioni di voto. Il sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando, ha scritto alla Regione la causa, l'esiguità della somma per gli straordinari degli impiegati degli enti locali stanziati dalla Regione Siciliana. Così si rischia il caos. E questo è il succo del contenuto della lettera che il sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando, ha inviato all'assessorato regionale agli enti locali. Troppo pochi i 160.000 euro che la Regione ha stanziato per gli straordinari dei dipendenti comunali impiegati per le operazioni di voto. La missiva, che è stata indirizzata anche al prefetto e al questore, parla apertamente di possibili ritardi nella logistica dei seggi elettorali, ritardi nei rifornimenti dei materiali mancanti ai seggi come schede, timbri e matite, ritardi nell'acquisizione dei dati elettorali, scarsa assistenza telefonica agli addetti e ai presidenti e ritardo nel ritiro dei plichi a fine elezioni. Non è difficile comprendere quale potrebbe essere il pericolo per l'inesattezza del risultato stesso delle elezioni, uno scenario che paventa anche Giusto Catania, assessore comunale competente, secondo il quale ci sarebbe il rischio concreto di imprecisioni nello svolgimento di tutta l'attività che si tradurrebbe in una minaccia sulla possibilità di svolgimento corretto e sereno di un atto di democrazia come è il voto. Mercoledì 10 ottobre, amate la giustizia, voi che governate sulla terra, questo è il titolo di un opuscolo preparato dai vescovi siciliani, un opuscolo dove sono state raccolte le riflessioni degli alti prelati e è intervenuto anche l'arcivescovo di Palermo, il cardinale Paolo Romeo. Sono riflessioni che dicono essere venute direttamente dalla parola di Dio, quelle che questa mattina la conferenza episcopale ha presentato riunite in un fascicoletto di appena 15 pagine, un'analisi senza dubbi attenta dei tempi che stiamo vivendo. La crisi economica ma anche la crisi dell'uomo e delle coscienze sono passate al vaglio dei vescovi siciliani che denunciano il forte degrado dell'uomo che comincia quando si smette di fare il proprio dovere. Non è un documento per le elezioni, abbiamo voluto dire un documento sulla situazione politica e sociale che sarà ancora più grave dopo il 28 perché è lì che si farà il gioco. A noi non interessa mettere l'uno o l'altro al governo, non stiamo facendo questo e non vogliamo fare questo. Dove troviamo veramente le priorità di chi amministra la cosa? E questa è la scollatura. Noi se andiamo a vedere i dibattiti nelle assemblee o anche nei consigli, i problemi reali della gente non ci sono. Si richiedono un impegno serio sulla via dell'onestà, sulla via dello sviluppo, sulla via dell'educazione, come in una famiglia quando le risorse sono ridotte si vuole spendere nel miglior modo le risorse che ci sono. Nessuna indicazione politica però non è il nostro compito, è stato sottolineato più volte questa mattina, ma la conferenza episcopale prende atto del difficile momento e promette di aiutare i cittadini attraverso percorsi di formazione ed evangelizzazione che porteranno però alla creazione di un osservatorio. Il governo nazionale di intesa con la regione ha destinato 50 milioni di euro che serviranno per le principali vertenze occupazionali nell'isola. Il ministro del lavoro Elsa Fornero ha raggiunto in intesa con la regione siciliana per l'assegnazione di 50 milioni di euro da destinare agli ammortizzatori sociali in deroga nel territorio regionale per l'anno 2012. Lo si legge in una nota del ministero nella quale si sottolinea che l'intesa verrà formalizzata a breve. Le risorse saranno utilizzate anche per i lavoratori della GESIP, la società di servizio del comune di Palermo, in forte difficoltà. Grazie all'accordo raggiunto con il ministero dal dirigente generale del lavoro Anna Rosa Corsello, ha spiegato il presidente Raffaele Lombardo, abbiamo a disposizione altri 50 milioni di euro che serviranno a far ripartire le trattative delle principali vertenze occupazionali siciliane e consentiranno l'erogazione della cassa integrazione e della mobilità. Le risorse economiche ottenute vanno sommate e 56 milioni già utilizzati dall'amministrazione regionale per gli stessi scopi. L'accordo è stato raggiunto grazie anche al saldo di tutti i debiti dell'amministrazione siciliana nei confronti dell'Inps. Il meccanismo degli ammortizzatori sociali infatti prevede una compartecipazione finanziaria tra state e regione nella misura rispettivamente del 60 e del 40% delle risorse da utilizzare. Giovedì 11 ottobre abbiamo parlato di GESIP, si procede a tappe forzate alla chiusura della società prevista per il 31 dicembre, stop ai contratti di fornitura di beni e servizi. Pezzo dopo pezzo la GESIP viene smantellata. È iniziato il percorso che porterà il 31 dicembre alla chiusura della società con la cessione dei beni di proprietà della stessa. Abbiamo riconsegnato i mezzi presi a noleggio, chiuso tutti i contratti, posti in essere di fornitura di beni e servizi e chiuso le linee telefoniche, dice il commissario liquidatore Giovanni Labbianca. Ai lavoratori, proprio ieri, sono state versate la tredicesima e la quattordicesima mensilità, ulteriore segnale che si stanno cercando di chiudere al più presto tutte le vicende ancora aperte che riguardano la GESIP. La situazione è più scottante e riguarda alcuni crediti vantati proprio dalla società nei confronti del comune di Palermo e sui quali, viste le condizioni in cui versano le casse dell'amministrazione di Palazzo delle Acquie, si dovrà avviare un confronto. La chiusura della GESIP, insomma, si fa sempre più vicina, ma perché sia possibile mettere la parola fine al romanzo che riguarda la società di servizi, occorre che tutte le pendenze che la riguardano siano risolte. Il servizio navale della Guardia di Finanza ha ritrovato un relitto spagnolo da guerra nelle acque di Avola, risalente ai primi del Settecento. Gli uomini della Guardia di Finanza attribuiscono l'eccezionalità del ritrovamento al luogo in cui è stato effettuato il basso fondale nelle acque di Capopassero di pertinenza del comune di Avola. Si tratta di un'imbarcazione che nel 1718 partecipò con ogni probabilità agli scontri con gli inglesi e che è stata ritrovata con attorno i suoi cannoni. Ad effettuare il ritrovamento l'ha puntato scelto Bruno Magnano. Quando ho capito all'incirca di cosa si trattava non ho fatto altro che fare relazione subito al comandante del mio reparto che poi ha attivato tutto l'iter previsto per questo tipo di operazioni. La particolarità è stata l'emozione di avere visto non solo i cannoni, perché di cannoni ne abbiamo visti tanti, ma di avere visto addirittura l'affusto che emergeva dalla sabbia che è un fatto assolutamente eccezionale. Cioè quindi immaginarsi il cannone su quell'affusto sul ponte di un'imbarcazione è certamente un'emozione che francamente non avevamo mai provato. Il materiale è conservato in maniera eccellente, quindi sicuramente potenzialmente lo scavo sarà uno scavo eccezionale perché ci permetterà di trovare un sacco di materiale anche minuto, perché in questa imbarcazione dobbiamo immaginare che la gente ci viveva, quindi quotidianamente consumava dei pasti, quindi utilizzava delle stoviglie, aveva i loro effetti personali, per cui lo scavo sarà sicuramente foriero di ritrovamento di oggetti di grande pregio. Il sovrintendente Tusa si è detto soddisfatto dell'operazione ma ha voluto sottolineare le enormi potenzialità del ritrovamento che però con ogni probabilità non potranno essere neanche oggetto di ricerca perché la regione non mette abbastanza fondi a disposizione dei ricercatori. Venerdì 12 ottobre, sempre più in crisi, l'AMAT, l'azienda del trasporto pubblico palermitano, il presidente Ettore Archioli ha fatto appello al senso di responsabilità dei sindacati. Caccia agli imboscati per dare all'AMAT una speranza. L'azienda del trasporto pubblico si trova in grosse difficoltà dopo il taglio del 20% del contributo regionale. Ad acquire la crisi c'è un credito che l'ex municipalizzata vanta nei confronti del comune per un ammontare di 140 milioni. Una situazione che il presidente dell'AMAT Ettore Archioli sta cercando di gestire anche facendo appello al senso di responsabilità dei lavoratori. I sindacati sembrano aver accolto con favore le richieste che ha avanzato Archioli nell'incontro che si è tenuto ieri, sebbene la preoccupazione sia tangibile. Bisognerà reperire risorse fino a dicembre, spiega Salvatore Girgenti della FITCISL, altrimenti ci saranno problemi enormi per il pagamento degli stipendi, ma anche per i fornitori e per il carburante. Ma ai lavoratori l'azienda chiede maggiore produttività e anche tra gli impiegati si riconosce che qualcosa nella macchina organizzativa non funziona. Da oggi metteremo in campo un piano di utilizzo di tutte le risorse disponibili, dice Franco Trupia della Will Trasporti. Dobbiamo produrre di più per dimostrare che l'AMAT è un'azienda sana. Lavoreremo per trovare le sacche che non funzionano, per recuperare tutte le vetture ferme e garantire autobus di ricambio efficienti. Un altro bene confiscato alla mafia è assegnato al comune di Altavilla Milica in provincia di Palermo. Verrà utilizzato per fini sociali. Si tratta di una villa di contrada a Cicca Praia tra Altavilla e Trabia. Verrà destinata a centro di educazione ambientale. Il centro, intitolato a San Francesco, è stato affidato alla Caritas Diocesana. È un'associazione temporanea di imprese. Gli obiettivi che si prefigge, come ha sottolineato il direttore della Caritas, Don Benedetto Genualdi, sono una poliedrica attività finalizzata all'educazione di bambini e adulti a stili di vita improntati a uno sviluppo ecosostenibile al rispetto degli equilibri naturali. All'inaugurazione erano presenti tra gli altri il sindaco di Altavilla, Nino Parisi, il vicario dell'Arcivescovado di Palermo, il provveditore agli studi, numerosi rappresentanti delle istituzioni dell'associazionismo. Il centro intende rappresentare un luogo e un'occasione di confronto e cambiamento culturale sui temi della salvaguardia del pianeta contro ogni forma di inquinamento, per l'uso corretto delle risorse naturali, per la protezione delle aree verdi e degli animali. Il centro promuoverà seminari di studi sul mondo animale, su acqua, cielo e terra, attraverso la pet therapy e l'ippoterapia, incontri di preghiera, corsi di formazione, pubblicazioni, campi scuola. Sono inoltre previste escursioni assistite alla scoperta della flora e della fauna dell'area protetta di Pizzotrigna, Pizzocane, Grotta Mazzamuto, alla grotta del Canale del Fico, al laghetto di piano di ferro all'antica dimora dei Marchesi Artale e ancora a serate per l'osservazione con un telescopio dei corpi celesti con la guida di esperti astrofili. Visite assistite ai beni artistici, monumentali e paesaggistici saranno costituiti gruppi di acquisto solidale di prodotti bio e a chilometro zero per uno sviluppo ecosostenibile. Gli obiettivi che il centro San Francesco sostiene sono socialmente e culturalmente interessanti, ha sottolineato il sindaco Nino Parisi, la cui amministrazione intende sostenere l'utilizzazione a fini sociali dei beni sottratti alla mafia. Nel giro di pochi mesi due beni confiscati alla mafia sono stati assegnati al comune di Altavilla e destinati a strutture sociali e ricreative come Villa Geraci che verrà gestita da un consorzio tra cui la Lega delle Cooperative. Sabato 13 ottobre diverse forze politiche e sindacali di sinistra hanno presentato la campagna nazionale referendaria sui quesiti del lavoro riguardo gli articoli 8 e l'articolo 18 dello statuto dei lavoratori. Due referendum per impedire quello che è già stato ampiamente definito come uno scempio sociale vero e proprio e 500.000 firme nel giro di tre mesi che serviranno per la lavorazione dell'articolo 8 della legge 14 settembre 2011 numero 148 risalente al governo Berlusconi e delle modificazioni introdotte dal governo Monti all'articolo 18 dello statuto dei diritti dei lavoratori. Solo per fare un esempio l'articolo 8 permette di derogare dai contratti nazionali di lavoro tramite accordi sindacali raggiunti in sede aziendale anche solo da alcuni sindacati. Per questo ad esempio la FIOM è stata esclusa dalla stessa agibilità sindacale entro la FIAT, una condizione addirittura peggiore dei più bui anni 50. Oggi parte formalmente la raccolta firme. Siamo presenti in tutte le piazze d'Italia, l'Italia dei Valori è ormai specializzata in raccolta delle firme per dire no a brutte leggi e a fronte di quello che è successo in questi ultimi anni, da prima col governo Berlusconi e poi con il governo Monti siamo impegnati per porre un limite, alcuni paletti rispetto alla negazione dei diritti e rispetto alla professionalità che vengono mortificate ogni giorno in campo nazionale. Da oggi raccogliamo le firme per cercare di affermare alcuni principi e alcuni loro riferimenti. E questo era tutto per la settimana appena trascorsa, io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro ancora una buona domenica.